Guardia di finanza, operazione Caramelle, presunta corruzione, in due agli arresti domiciliari. Gela, commerciante picchiato con una spranga mentre stava rientrando a casa e in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ray dell'Adresco nella notte in via Paladini a Caltanissetta indaga la polizia. La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate a Caltanissetta. Orto sociale al quartiere Angeli, iniziativa di Lega Ambiente, prende forma uno dei progetti più votati dai cittadini per il bilancio partecipativo 2021. Calcio verso la quinta edizione del Memorial Territo e Savoia dal 4 all'8 dicembre a Caltanissetta. Mazzette per sveltire la macchina burocratica della pubblica amministrazione. Sembra essere la classica vecchia storia di corruzione, quella scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Palermo che hanno arrestato un imprenditore e un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, per i quali il GIP del capoluogo regionale ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, il funzionario regionale, in quanto addetto alle procedure di liquidazione in cambio di somme di denaro, avrebbe fatto in modo di velocezzare i controlli di propria competenza e altre procedure, perché venissero eseguiti una serie di pagamenti di fatture per circa 130.000 euro. L'imprenditore, in quanto referente di due aziende edili del Messinese, aveva svolto lavori pubblici commissionati da comuni delle province di Caltanissetta e Messina. Dagli accertamenti degli investigatori è emerso che il funzionario avrebbe incontrato due volte l'imprenditore, il quale gli avrebbe consegnato il denaro in tre pacchetti lasciati sulla scrivania e presentati come caramelle. Ora si attende che venga chiusa l'indagine. Un'aggressione barbara perpetrata con violenza feroce, quella in cui è rimasto ferito seriamente un commerciante gelese la scorsa notte. Un assalto improvviso quello subito dall'esercente, titolare di una pizzeria che si trova nel centro di Gela. Gli aggressori lo hanno sorpreso mentre stava rincasando e gli sono piombati addosso iniziando a sferrare ripetuti colpi di spranga sull'uomo. Una scena terribile alla quale hanno assistito anche la moglie e la figlia del commerciante che dopo aver sentito le gride e i rumori della colluttazione sono accorse e hanno poi chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del 118. Le condizioni dell'aggredito sono apparse subito serie per via dei colpi alla testa che secondo quanto emerso finora hanno causato all'uomo un trauma cranico. I medici hanno disposto il trasporto all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove l'uomo è adesso ricoverato in prognosi riservata. I militari dell'arma stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto c'è da capire quale sia il movente alla base di un gesto del genere. Il prefetto di Kaltanissetta, dottoressa Chiara Armenia, ha presieduto nel tardo pomeriggio di ieri una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata a monitorare la situazione gelese. Alla seduta, oltre ai vertici delle forze dell'Ordine, ha preso parte anche il sindaco di Gela. Nel corso dell'incontro il prefetto ha dato atto dell'effettiva intensificazione dei controlli nel territorio gelese, disposta all'esito della riunione della scorsa settimana e ha fornito chiare e precise direttive affinché gli stessi siano ripetuti con costanza in una logica strategica volta ad evidenziare la presenza costante dello Stato sul territorio. Nella circostanza, peraltro, il prefetto ha fortemente auspicato che la comunità gelese reagisca all'attuale situazione collaborando fattivamente con le istituzioni in uno spirito di cittadinanza attiva, che vuole vedere i tanti cittadini gelesi, onesti e rispettosi della legalità essere parte attiva del sistema integrato di difesa del territorio. Amara sorpresa per i proprietari di due auto parcheggiate all'interno di un condominio di via Paladini. Alcuni ladri sono infatti penetrati all'interno del condominio stesso e hanno rubato i fanali delle vetture. Un furto insolito messo in atto dai malviventi e sul quale sta adesso indagando la polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia dai proprietari delle auto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono introdotti all'interno del condominio e hanno anche danneggiato gli ingressi di alcuni garage. Saranno ora gli accertamenti degli investigatori della questura a ricostruire il quadro indiziario. Avevano cercato di approfittare dell'assenza dei proprietari, ma il loro piano è andato in fumo in quanto sono stati sorpresi dai carabinieri. E dunque per due rumeni di 37 e 31 anni è scattato l'arresto per furto, con applicazione degli arresti domiciliari a seguito dell'udienza di convalida. Secondo la ricostruzione investigativa, i due indagati avevano preso di mira un appartamento nel centro di grotte. I due ladri si erano introdotti all'interno e avevano iniziato a rovistare in giro per casa la ricerca di oggetti di valore e denaro, iniziando a mettere insieme un bottino fatto di gioielli e anche di altri oggetti. In quegli istanti però un equipaggio dei carabinieri che stava pattugliando le vie del centro ha notato dei movimenti sospetti e anche che una delle finestre dell'abitazione era aperta. E quindi hanno deciso di controllare che fosse tutto a posto. Ed è stato così che gli investigatori hanno sorpresi due malviventi, entrambi braccianti agricoli, con le mani nel sacco. Di conseguenza è scattato l'arresto con applicazione dei domiciliari, poi confermati come detto dal giudice al termine della convalida. Questa mattina, lungo il Viale Regina Margherita, dinnanzi al Monumento ai Caduti, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La manifestazione è iniziata con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforse presso il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita, cui ha seguito la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto Chiara Armenio al sacello dedicato ai caduti. La manifestazione, che si è svolta davanti alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, è anche ad una rappresentanza delle scolaresche locali. Alle ore 18, presso il Monumento ai Caduti, la Maina Bandiera per la conclusione del programma delle celebrazioni. Simbolo, sicuramente un simbolo di ricordo, di ricordo dei caduti della guerra, che si sono battuti, hanno perso la loro vita, giovani ragazzi, per che cosa? Per la nostra libertà, che a volte diamo per scontata, ma scontata non è. Quindi dobbiamo avere cura di questa libertà e di questa situazione di pace in cui viviamo. Teniamo anche presente che tante forze dell'ordine, tanti uomini delle forze dell'ordine hanno perso la loro vita per difendere i principi di libertà e di democrazia nel nostro paese. Il simbolo del 4 novembre è elevato perché è uno dei momenti di riconoscimento della nazione, dello Stato, attorno in particolare alla propria unità rappresentata dalle forze armate che la difendono. Noi siamo forza civile, ma insieme alle forze armate siamo il sistema di sicurezza. Noi la risicurezza civile e loro in parte come l'arma ai carabinieri e la finanza, anche la sicurezza civile economica e poi la sicurezza del nostro Stato in un contesto che è anche quello complesso di questo momento e in un contesto europeo perché non dimentichiamoci che facciamo parte della comune casa europea. Il 4 novembre è la festa delle forze armate ma soprattutto la festa dell'unità nazionale e in questo momento di particolare difficoltà internazionale con la guerra in Ucraina e soprattutto con la guerra energetica per il valore che è più pesante in assoluto è la pace. Quindi noi sulla pace è giusto che diamo il nostro contributo, il nostro minimo contributo da ente locale lo diamo con una presenza della bandiera della pace sul balcone principale di Palazzo del Carmine ma soprattutto il prefetto ricordava il bene comune. Il simbolo è per tutti noi italiani ricordare gli anni in cui molti italiani sono deceduti per difendere il suolo della patria. Un appello di cuore è quello di evitare che si ripetano queste cose nel mondo intero, non solo in Italia, nel mondo intero. Il 4 novembre è una festa importantissima anche perché è giusto ricordarla perché molte persone hanno dato la vita affinché noi potessimo giochire di quello che hanno fatto loro. Ed è un dovere essere qui in questo momento presenti, schierati con i simboli distintivi dei vari battaglioni di appartenenza. È LISCI, ovvero il libero indipendente sindacato confederale italiano, a diffondere una nota alla stampa sottoscritta dal segretario aziendale LISCI D'Asti Caltanissetta Carmelo Mario Lipani e dal segretario generale provinciale LISCI Caltanissetta Lorenzo Rosario Petix. Nel documento sono elencate tutta una serie di problematiche aziendali che riguarderebbero un non sereno rapporto che intercorrerebbe tra Dasti di Catania, azienda che ha in gestione dell'appalto di igiene ambientale nel comune di Caltanissetta, e i dipendenti dell'azienda stessa. Sempre secondo il documento dell'organizzazione sindacale, i dipendenti sarebbero costretti ad operare in condizioni complesse, facendo poi una dettagliata lista delle problematiche criticitari da risolvere. Dalla mancata corrisponzione degli stipendi in tempi previsti dalla mancata organizzazione del lavoro che servirebbe per svolgere al meglio le attività di servizio, come fino al mancato aumento del parco mezzi e delle unità di lavoratori che, secondo i sindacalisti, sarebbero da potenziare con nuove assunzioni. Abbiamo così contattato la Dasti, che ha prontamente replicato in merito alla questione riportata dall'organizzazione sindacali LISCI, e l'amministratore unico di Dasti, Rossello Pezzino De Geronimo, tramite il proprio ufficio stampa, ha risposto che rileva e precisa che i funzionari che sono delegati alle trattative sindacali hanno piena autonomia decisionale nell'ambito delle direttive degli indirizzi strategici impartiti dal management societario. E dice inoltre, pertanto contesta perentoriamente le infondate accuse di tergiversare o temporeggiare nei tavoli di trattativa sindacale. Per quanto riguarda le asserite criticità del cantiere di Caltanissetta, contesta che non siano stati corrisposti tempestivamente gli stipendi correnti ai lavoratori addetti alla commessa. In ordine alle altre supposte problematiche, l'amministratore unico osserva, continua ancora la risposta, che non sussistono inadeguatezze o carenze di risorse umane e materiali destinati alla gestione dell'appalto. La società, rendendosi sempre disponibile a discutere con le parti sociali e l'organizzazione del lavoro, ribadisce il principio dell'autonomia decisionale nelle scelte aziendali, poiché le responsabilità gestionali rientra nella sfera decisionale dell'imprenditore ed infine conclude. L'amministratore unico ribadisce la piena disponibilità a proseguire le trattative con l'organizzazione sindacale lisci per discutere di ogni eventuale proposta proveniente dalla stessa organizzazione sindacale. Comincia a prendere forma il progetto presentato da Lega Ambiente Caltanissette che si è classificato tra i più votati dai cittadini per il bilancio partecipativo 2021, proposta progettuale che si inseriva nell'area tematica cura e bellezza del centro storico. Si prevede infatti la realizzazione di un orto sociale proprio vicino al campo di bocce del quartiere Angeli. Tra gli obiettivi del progetto è quello di costituire uno spazio vitale dove sentirsi a proprio agio, conversare, passeggiare, fare giardinaggio, piantare, seminare, sporcarsi, divertirsi, aiutarsi, ascoltare, leggere, trascorrere ore. E ancora riqualificare il territorio, favorire la socializzazione e l'integrazione tra cittadini e sensibilizzare ed ed educare uno stile di vita ecosostenibile. Un progetto che potrà essere sviluppato grazie ad una rete con altre realtà del territorio, così come spiega lo stesso presidente di Legambiente Caltanissette, Vocigna. Già abbiamo fatto l'aratura, stiamo dissodando il terreno, lo stiamo preparando. Ma è un progetto che parte dal basso e con una rete vasta che comprende la comunità, la chiesa di San Domenico, la scuola, il comune chiaramente di Caltanissetta, la sovrintendenza, diversi attori del territorio per far sì che questi lotti che realizzeremo devono essere a servizio delle famiglie in primis che abitano nel quartiere. E poi i lotti possono anche essere utilizzati da associazioni al terzo settore, dalla scuola stessa, dalla comunità della chiesa. Però questi passaggi saranno fatti insieme a tutti gli attori, tutte le decisioni verranno prese da questa rete, dovrà capire anche perché bisognerà mettere mano al modello di gestione. Quindi da una parte realizzeremo l'orto e lo stiamo iniziando a fare, ma ripeto, i passaggi noi contiamo di essere attivi nella primavera del 2023 e quindi pian pianino ci dobbiamo portare per essere a marzo pronti. Però tutti i passaggi che faremo saranno fatti da tanti attori che ci supporteranno in questo percorso. L'idea è tirare fuori da questo spazio agricolo almeno 30-40 lotti da 40-50 metri quadrati ciascuno, serviti da acqua e dare la possibilità con la gestione di poterli affidare o a famiglie o ad associazioni come dicevo. Con un regolamento che dovrà essere seguito sulle tipologie da poter piantare, quali orticole, quali altri piantine si possono mettere a dimora, se prevedere o meno fiori, piante da fiori. Queste sono tutte le decisioni che devono essere realizzate, ripeto, da questa rete. Anche quest'anno si terrà il torneo dell'Immacolata dal 4 all'8 di dicembre. Quest'anno ricorre il quinto anno del memoria alterrito Savoia che si svolgeranno ai campetti Lombardo. Le squadre saranno divise per categorie che andranno dagli esordienti 2010-2011, i pulcini 2012-2013, primi calci 2014-2015 e piccoli amici 2016-2017. Le iscrizioni entro e non oltre il 20 di novembre. Dal 4 all'8 faremo questa Kermes dove avrà delle particolarità in più rispetto al passato, dove ci sarà anche un torneo dedicato alle ragazze dell'Under 12 e dell'Under 15, dove saranno coinvolte tutte le categorie dagli esordienti ai pulcini ai primi calci ai piccoli amici, dove ci saranno la presenza di quasi tutte le province al torneo con le squadre partecipanti. Lo spazio, anche se abbiamo tre campi in erba sintetica, è piccolo. Probabilmente per quello che sta arrivando dovremmo chiedere aiuto al territorio vicino, sia a San Cataldo che anche al Pian del Lago 1, al Marco Tomaselli che speriamo di poter anche lì inaugurare con questo torneo. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando il vero autunno entrerà nel vivo sull'Italia, complice questo minimo di bassa pressione giunto dalle isole britanniche. Piogge, rovesci sparsi, quindi al centro-sud. Nel dettaglio possiamo osservare ancora tanta nuvolosità che interesserà il centro-nord, ma man mano la perturbazione si sposterà all'altitudini più meridionali, quindi verso le regioni del sud. Nel dettaglio possiamo anche notare con i focus le precipitazioni al mattino, ancora residui sul nord-est con neve sulle Dolomiti, migliora al nord dal pomeriggio, mentre i rovesci temporali attannaglieranno tutto il centro-sud con questo minimo depressionario in formazione sul terreno meridionale. Uno sguardo quindi in sintesi all'Italia, l'instabilità su molte delle nostre regioni con temperature che inizieranno a calare al nord, poi durante il fine settimana anche al centro-sud netto calo termico. I dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno. Centrale, Corso Umberto. Servizio notturno. Centrale, Corso Umberto. Corso Umberto. In sessions, Restore, Corso Umberto.